Servizio idrico e gestione dei rifiuti problematica a Nodi Alpettine al centro della riunione avvenuta in prefettura presieduta dal prefetto Cosima Distani che ha visto i 22 sindaci che amministrano i paesi della provincia nissena e i rappresentanti regionali e il commissario del libero consorzio Rosalba Pambini affrontare questioni spinose. Durante la riunione infatti è stata esaminata l'esposizione debitoria complessiva dei comuni nei confronti del lato CL1 in liquidazione. Fissata al 20 novembre la seduta di approvazione dei bilanciato degli ultimi sette anni di gestione che riportano un debito complessivo pari a 35 milioni di euro. I comuni inoltre hanno invitato il commissario del lato ad affrontare insieme al gestore Caltacqua la questione delle bollette pazze valutando l'eventuale annullamento dell'ultimo conguaglio disponendola dove possibile la missione della rateizzazione.